buongiorno buongiorno allora un utente e un utente mi ha chiesto di fare una determinata prova molto specifica cioè perché poi mi ha chiesto di volare sapere se le mie bacchette che trovate su ebay possono rilevare loro in un barattolo di vetro chiuso ermeticamente quindi qui abbiamo un tappo in ferro e adesso facciamo alcune prove io ho già preparato la buca facciamo le prove sia con buca aperta che con buca chiusa diciamo che mi sporco il barattolo sopra però vabbè facciamo sta prova così diamo un'occhiata allora intanto mettiamo il barattolo vuoto con il coperchio dentro la buca e proviamo a vedere se rileviamo il metallo del coperchio però attenzione siamo senza protezione delle mani cioè senza isolare le mani poi mettiamo i guanti in lattice qui facciamo una prova semplicemente con il barattolo lì a vista e vediamo cosa succede andiamo avanti e rileviamo il coperchio rileviamo il coperchio facciamo la stessa prova con isolando le mani come vi ho già fatto vedere in alcuni video isolando le mani facciamo la stessa prova andiamo sopra di nuovo sul coperchio stavolta con le mani isolate andiamo e vediamo che non chiude vedi che siamo sopra quindi ecco questa è la particolarità delle mie bacchette da rabdomante che possono essere bruttine da vedere perché hanno semplicemente erano semplicemente dei manici con con le custodie della bicca no insomma ecco della bicca del biro vedi però ti sto facendo vedere che isolando le mani guarda le passo sopra e non andiamo a beccare il come si chiama il coperchio ora facciamo la stessa cosa con dentro magari mettiamo dell'oro come mi voleva chiedere proviamo sia senza guanti che con i guanti direi che come come esperimento e tanta roba quindi mettete subito un pollicione questo è un anello di oro giallo con delle pietre saremo sui 4 grammi penso 3 4 grammi non ne sono ricordo mettiamo l'anello d'oro nel grattolo chiudiamolo bene lo lasciamo un attimo lì facciamo la stessa prova senza guanti e poi con i guanti allora ora senza guanti è molto probabile che andremo a rilevare probabilmente tutti e due è chiaro siamo senza guanti prima abbiamo rilevato solo il tappo di ferro ora rileveremo lo stessa cosa perché siamo senza guanti quindi sono due tipi di metalli ma senza guanti andiamo su tutte e due guarda eccolo qua e visto stiamo rilevando tutto mettiamo i guanti ma non cambia molto nel senso perché è una prova strana nel senso è una prova che abbiamo visto che facendo la prova senza oro semplicemente con il coperchio di ferro abbiamo visto cosa abbiamo visto che senza guanti rilevavamo il coperchio con i guanti non rilevavamo il coperchio quindi non so non so se è una prova molto sensata amico mio che me l'hai chiesta perché adesso abbiamo i guanti vediamo un po se c'è l'oro lì sotto se lo becchiamo e lo becchiamo chiaro che lo becchiamo aspettate che mi metto un po a posto ma è questo qui è l'oro guarda qua c'è l'oro a questo punto a questo punto sta beccando l'oro perché prima abbiamo visto che con i guanti non andavamo sul coperchio di ferro quindi il mio consiglio è se vuoi cercare metalli preziosi adesso abbiamo messo un anello d'oro però se vuoi utilizzare queste per cercare oro, argento, rame insomma metalli nobili quindi devi per forza utilizzare come ti ho fatto vedere dei guanti in lattice che ti vanno a isolare le mani anche se abbiamo già la plastica qui ma l'isolazione delle mani l'isolamento delle mani è molto molto importante ricordati anche che devi isolare i piedi devi avere uno scarpone in gomma proprio da pescatore insomma scarponi così insomma 10 euro costano anche costa di più ora facciamo la stessa cosa però a questo punto togliendo un attimo il coperchio non so vediamo se è giusta sta prova che voglio fare poi riguardate il video mille volte perché io sto facendo delle prove in base a quanto mi chiedo non so perché sono curioso anch'io non è che io riesco a fare tutte le prove possibili a immaginarmi quindi mi fa molto piacere quando vengo contattato e che qualcuno mi dà un input per fare delle prove insomma ecco quindi facciamo la prova senza a questo punto senza niente però la prova in sé l'abbiamo già superata perché abbiamo visto che senza i guanti senza i guanti andavamo sul coperchio di ferro la prima prova che ho fatto con i guanti non andavamo sul ferro ma con i guanti andavamo sul ferro e loro e già qui già qui abbiamo un incrocio di dati no di esperimenti quindi teniamo la mente ora lì abbiamo il coperchio abbiamo solo il vetro senza nulla cosa andiamo sopra il vetro senza nulla vediamo andiamo sopra il vetro senza nulla e vediamo che non chiude assolutamente no possiamo fare ancora un'altra prova abbiamo provato con l'oro e ok proviamo con un tubo di rame questo un tubo di rame andiamo sopra col tubo di rame a questo punto e lo becchiamo in pieno adesso devi lasciare giusto il tempo che si calibra no però vedi che hanno già chiuso eh lo vedi che hanno già chiuso guardalo qua guarda adesso vado giù lascia un attimo che si fermano c'è qualcos'altro anche qua di rame secondo me però questo è l'incrocio sul rame allora bene a questo punto non ci resta che fare una prova chiudendo il tutto con la terra quindi proviamo a fare così facciamo una prova semplicemente facciamo una prova con un barattolo vuoto quindi siamo solo su ferro lo mettiamo in giù così non si sporca tanto poi se non mi tocca aprirlo allora mettiamolo così e copriamolo vedi chiudiamolo così beh un po' eh non è che devo eh abbiamo anche pietre rocce verdi c'è un po' di tutto qua ok allora lì sotto abbiamo semplicemente il vasetto con il tappo di metallo di ferro proviamo eh senza i guanti e vediamo cosa succede proviamo senza i guanti andiamo sopra la zolla andiamo un po' senza i guanti e senza i guanti lo prendiamo vedi e qua sotto c'è il il barattolo di vetro col tappo facciamo questa prova con eh con i guanti facciamo questa prova con i guanti in lattice sono un po' sporchi ok vediamo se isoliamo se discriminiamo se discriminiamo quel farro del tappo andiamo sopra ebbene non chiude siamo qua vedi ci spostiamo anche di lato giusto per fare un'ulteriore prova andiamo dritti come vedi il tappo non viene rilevato solo il tappo lo stiamo discriminando ora però facciamo la stessa prova esattamente sia con i guanti con i guanti e senza con dentro dell'oro come mi chiedeva questa persona no quindi scaviamo tiriamo fuori questo barattolo senza spaccarlo magari che è qua senza spaccarlo eh bene ok allora rifacciamo bene il buco come vedi è un terreno molto mineralizzato è pieno di sassi sassetti rocce verdi guarda di tutto insomma va dentro ora come detto facciamo la stessa prova mettendo all'interno è un anello d'oro lo stesso di prima giusto per tenere un esempio uguale a prima insomma quindi 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 adesso qui abbiamo abbiamo il barattolo con sempre il tappo di ferro ma con dentro l'oro lo rimettiamo lì sotto richiudiamo la zolla quindi se ci ricordiamo con i guanti non stavamo trovando il tappo di ferro quindi non lo avevamo discriminato isolato facciamo direttamente questa prova quindi adesso andiamo andiamo adesso andiamo sulla zolla e sulla zolla però adesso c'è barattolo di vetro tappo di ferro e c'è anche l'oro noi sappiamo che prima con i guanti non abbiamo trovato il tappo andiamo adesso sull'oro a questo punto vediamo cosa succede eccolo qua hai visto? hai visto? facciamolo anche lì poi preso in pieno ora è inutile che adesso io faccio questa prova senza i guanti perché? perché sappiamo che senza i guanti andiamo sul sul tappo di ferro e va da sé che sopra il tappo di ferro c'è anche l'oro quindi è una prova inutile ma possiamo farla ma è inutile perché in tutti e due i casi c'è del metallo e tutti e due i casi andiamo a prendere la la risonanza di di due metalli insomma allora guarda adesso andiamo sopra senza i guanti guarda e vedi che ci andiamo in pieno ma questa è una prova inutile la prova la prova reale bella precisa trasparente è stata quella che interrando il barattolo solo con il tappo di ferro isolando le mani non lo abbiamo trovato il tappo di ferro ma rifacendo la prova con dentro l'oro lo abbiamo rilevato e quindi questa prova è questa prova che la prova del nove la prova del dieci sono bene insomma io non so altro cosa devo dirgli a mi diceva anche di metterlo in un nylon ma non c'entra molto nylon non nylon ma facciamolo però mi diceva di mettere dell'oro dentro del nylon io ho un barattolo di plastica adesso nylon non ce l'ho ho un barattolo di plastica vogliamo fare questa prova siamo qua facciamola ci togliamo anche questo dubbio boh magari interessa qualcuno allora tiro fuori di nuovo quel barattolo ora il nylon ovviamente da solo non la trovi con le bacchette aspettate prima che spacco qualcosa qua devo romperlo questo mi serve allora quindi adesso qui abbiamo fatto la prova dentro dell'oro ok adesso mettiamo facciamo andiamo giù ancora un po' bene allora adesso mi diceva di fare una prova con del nylon io ho della plastica insomma quindi ho questo barattolo adesso è vuoto facciamo la prova con il barattolo vuoto che devo fare chiudiamolo così tanto va è vuoto quindi abbiamo un barattolo vuoto di plastica vediamo se lo rileviamo tiriamo la pala però allora andiamo sul sul barattolo di plastica è ovvio che non lo rileviamo perché la plastica non è elettromagnetica insomma è un isolante quindi quindi come detto la plastica ovviamente non la rileviamo adesso riapriamo tutto mettiamo dentro con la plastica ci mettiamo il solito anello per fare giusto la prova uguale quindi ritiriamo su allora quindi adesso dentro qua gli mettiamo il plastico e l'oro vedi mettiamolo in fondo chiudiamo bene allora adesso abbiamo messo dell'oro dentro un isolante no? bene questa è la prova penso definitiva insomma abbiamo messo un anello d'oro dentro l'isolante vediamo un po' senza i guanti vediamo senza i guanti facciamo fatica lo sento ma facciamo fatica eccolo qua facciamo fatica con la plastica proviamo isolando isoliamoci un attimo l'abbiamo l'abbiamo centrato ma è stata molto più lenta è la cosa probabilmente l'oro all'interno della plastica viene isolato e un pochino più adesso proviamo con i guanti andiamo sopra no pieno 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 guardalo qua con i guanti però ma pensa te con i guanti con i guanti in latte c'è gli scarponi in plastica l'oro dentro l'oro dentro il baratto di plastica lo becchiamo in pieno andiamo di qua guardalo qua è pieno qua sotto altre prove amico mio altre prove mi hai fatto delle domande molto specifiche curiose perché comunque mi chiedevi se si poteva trovare dell'oro all'interno di un barattolo chiuso ermeticamente e l'abbiamo fatto test superato in pieno mi hai chiesto di mettere dell'oro all'interno del nylon io adesso il nylon non ce l'ho nylon cosa intendi una bustina ma è sempre plastica ecco è un barattolo della yogurt è plastica abbiamo visto che senza guanti su quel barattolo con dentro l'oro senza i guanti hanno fatto fatica a chiudere però hanno chiuso dopo con i guanti proprio ci vai su in pieno guarda rifacciamo con i guanti senza guardalo qua adesso ci mettiamo un attimo a posto che loro si calibrano guardalo qua spostiamoci un po' eccolo lì oh allora vi deve essere chiaro la ricerca la raguanzia va fatta in movimento come ho sempre detto come un metal detector un metal detector soprattutto un VLF ha bisogno di muovere la piastra per poter agganciare i segnali la stessa cosa sono le bacchette hai visto io vado sull'oggetto guarda e chiude vedi eccolo qua ma poi un pochino mi sposto mi correggo a destra e a sinistra per capire un attimino le bacchette dove poi loro vanno guarda vedi se io sto fermo mi sposto avanti e indietro su e giù loro mi danno un'indicazione abbastanza precisa dov'è poi l'incrocio che è qua sotto beh ah facciamo la prova no ho già fatta la prova senza guanti sì ho già fatta la prova senza guanti sull'oro e il baratto di plastica ho già fatta forse voglio rifarla per curiosità io per vedere quanto meno reagiscono vediamo e vedi 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 fa molto più fatica chiudono vedi chiudono ma la plastica del barattolo senza i guanti decisamente rendono il tutto più lento rifacciamo anche di qua andiamo piano guarda come chiude adesso ho chiuso un po' di più ma ha fatto fatica in questi in questi test senza i guanti eh senza i guanti senza ferro senza nulla c'è soltanto il baratto e l'oro quindi il mio consiglio è sempre quello che avevo detto prima se vuoi provare a fare ricerche di oggetti insomma metalli nobili insomma oro argento bronzo rame che ne so ottone non so tutti i metalli che non sono ferrosi no eh quindi ti devi mettere dei guanti isolanti e gli scarponi prova con la mia configurazione e poi fai delle prove anche magari togliendo i stivali mettendo togliendo i tuoi guanti per capire la tua reazione insomma come ti imposti tu soprattutto in quel tipo di terreno dove abiti ogni terreno ha una sua mineralizzazione io qui so che abbiamo un terreno che è un quando faccio con il metal detector l'annullamento del terreno siamo su 85 87 di terreno è tantissimo 85 di mineralizzazione su 100 vuol dire che è molto 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 mineralizzato no molto molto pieno di rocce come si dice serpentini roba ferrosa magnetica insomma capito bene insomma il test finisce qua sono diventato di nuovo lunghissimo spero che ti è piaciuto queste e ogni tanto ogni tanto adesso ci sono ancora le trovi sul mio ebay oppure contattandomi a goldoro italia chiocciola gmail.com e niente insomma bene un commento un like fatemi sapere cosa ne pensi abbiamo fatto sembra una prova abbastanza approfondita insomma chiara trasparente limpida su quello che è e quello che abbiamo fatto è tutto va bene vi saluto ci vediamo al prossimo video adesso io magari faccio un giro però vediamo mi piace anche il metal detector o anche la la mia antenna ionica la mia antenna ionica l'abbiamo provata su quel barattolo con dentro mettiamolo sulla mano sinistra lì sotto c'è sempre il mio barattolo con l'oro non li devo dimenticare andiamo allora mano sinistra lì c'è l'oro lei deve girare così senso orario vediamo andiamo e infatti guardalo qua senso orario l'hai visto e anche come gira anche senso orario girato a destra perché c'è dell'oro vogliamo fare un'ulteriore prova prima di chiudere sto video tiriamo su e mettiamo sotto un pezzettone di ferro dai facciamo sta cosa e via cioè via per voi perché poi io faccio altro quindi tiriamo su il barattolo bene qui c'è dentro mettiamo sotto quel pezzettone qui di martello è enorme pesantissimo bene qui c'è dentro l'oro devo ricordarmi allora rifacciamo la stessa prova adesso con una testa di martello pesantissima deve girare a questo punto invece in senso anti orario deve andare a sinistra guarda bene andiamo mettiamola dritta andiamo e allora eccola qua sta girando a sinistra come voleva si dimostrare materiali ferrosi con la mia ionica girano a sinistra materiali non ferrosi girano a destra e tenuta su mano destra mano sinistra scusate su mano sinistra come mi aveva consigliato un utente di youtube che era noto a salutare mi aveva dato questo consiglio e io col tempo poi ho fatto migliaia di video mi sono dimenticato ma la realtà è questa mano sinistra antenna ionica mano sinistra se cerchi oggetti rifacciamolo devo andare a sinistra vedi guardalo qua a sinistra perché è ferro allora adesso facciamo questa prova mettiamo questo lì buttato lì lì c'è dentro dell'oro e deve andare a destra vediamo un po' eccolo qua lo sta facendo poco perché siamo sempre dentro sta plastica comunque l'ha fatto andiamo di qui vedi che sta andando a destra poco perché siamo dentro c'è questa isolazione c'è questo isolamento della plastica adesso facciamo così mettiamo mettiamo questo anello d'oro appoggiato qua bene riproviamo senza quel barattolo insomma andiamo eeeh destra alla grande destra alla grande confermatissimo vedi eh guarda bene abbiamo fatto anche questa prova chiudendo sto video ragazzi mi ha messo mettito su anche il martello commento like iscriviti al canale ci vediamo presto per altri esperimenti di radduanzia o o nei torrenti cercare pagliuzze e poi metta il detector insomma o così state con me se vi fa piacere e ci vediamo presto ciao 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 ciao